Nuove magliette sullo store, andate subito a vederle per il design vapor più bello di tutta YouTube Italia Solo per sempre nello store di Berta Salve a tutti ragazzi, sono Berta e benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo qui con questo bellissimo nuovo video dei miei motti Voglio farlo diventare settimanale questo genere di video Ditemi sotto nei commenti se vorreste vederlo ogni settimana o no E partiamo senza ulteriori canguri Spidey tick Cos'era? Quello era un sasso in un supermercato, aveva tirato una sassata al tetto così Va bene Cosa cazzo? Roblox sex No, il bambino che cerca Roblox sex, no I really just wanna die Oh mio Dio Oh no Oddio Oddio Questo porno l'hanno usato troppe volte Sì, Avengers Quando spogliate la vostra ragazza troverete gli Avengers Funziona così Ah madonna D'hoooom Hehehehe Oh no, 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 gatto, nooo Qualunque canzone che non sia Jake Paul Logan Che cazzo è questa roba Da quale show il Krabi Patti You should probably shut the fuck up before I eat your ass Ok Quanto è brutto sto aggeggio mi fa una paura fottuta Oh no stanno facendo del sano sesso tra criccietonsi Oh no Questo me lo butta giù per porno o no? Ottima domanda No povero criccieto brutto Sei il padre Basta mo E' Super Mario 64 Perché? Oddio perché l'ha schiaffeggiata sulle chiappe così Tipo oh yes Fast as fuck boy I smell cheese Oh mio dio Qualcuno sa come si fa quello lo voglio fare ditemelo Visita il parco Vedi cos'ha la natura da offrire Fuck you They rolled so fast Cos'ha Ah ah diesel Perché sta canzone Perché sta canzone Per Cos'ha Sta Who's that You got any fucking cheese Oh mio dio Questi cosi mi fan paurissima Pretty hot right Yeah She's 15 Ladies and gentlemen We got him We got him Let's be high by prison Pretty hot huh You keep it at walmart though Fuck you Fuck you Oh mio dio Ancora Boom Oh Oh Perché vola Oh no Spruzzato sulla figa D'odorante Uno Uno Oh no Oh LoL stands for Luigi Overhair Looking thick Luigi is thick Bitches Airpods Plip Ha messo il coso No L'Aux dentro Oddio Va 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 Sexy Furetti sexy Oh yes Oh Quanto sono vecchi furetti Dai 4-5 anni Oh no, ste cose Perché c'era Starling? Quanto ho fatto Crazy Cosa sta dicendo? Cosa sta succedendo? Oh mio Dio Oddio È un uomo o una donna? No dai, è una tizia Quanti anni ha? Ecco Ok, 14 Jail time Sto clip dell'FBI è bellissimo No, perché c'è lui? Vediamo un po' cos'è che succederà adesso La nonnina Oh mio Dio Perché c'è lui? Sto crescendo di merda Questa l'avevo vista, mio Dio Ma basta con questo bullismo sull'Xbox Eh, è vernice Ah, ah, ah Ah Minecraft Quanti letti c'ha? PewDiePie Cosa? Cosa? Cosa sto vedendo? Cosa? Così era? Cosa sto vedendo? I miei occhi Oh mio Dio Oh mio Dio It's the cutest thing I've ever seen Ah, ma i danni di vita Cosa sta succedendo? È Gesù È Gesù Eccolo, infatti Lo sapevo Oh mio Dio Oh Dio Airpods Perché sono un meme da così tanto tempo, ste cose? Down, down, down È la pattumiera Dissing Apple di merda A caso Apprezzo però Per il video di oggi è tutto Mi raccomando Se vi è piaciuto Lasciate un bel piaccio Commento Iscrivetevi Comprate le nuove magliette Per il video di oggi è tutto Saluto Alberto Ci si becca al prossimo video Bella lì Grazie a tutti